Per il Campobasso è notte fonda dopo l'umiliazione subita ad opera del Chieti che vince 4-0 a Selvapiana. Da applausi la tripletta di Dos Santos chiude Ricucci, Campobasso senza idee, il centrocampo è sempre nelle mani teatine, disastrosi in difesa. Sul banco degli imputati squadra e allenatore che dice che solo con il lavoro si può risalire la china, dichiarazioni un po' pretestuose dopo una simile e inappellabile onta. Presenti circa 1300 spettatori, buona la rappresentanza proveniente da Chieti. Al nono all'esordio di Fiore con la maglia rosso-blu, il neo arrivato si fa tutta la fascia sinistra prima di arrivare in area dove calcia e trova la parata di Diuff che viene aiutato anche dal palo. Al quarto d'ora parte la verticale di Varone indirizzata bene a Dos Santos, il palonetto del brasiliano vale il vantaggio del Chieti a Selvapiana. L'esultanza dell'attaccante ospite è proprio sotto i tifosi abruzzesi che affollano la gradinata sud. Il Campobasso fa fatica a rendersi insidioso, al 28esimo Sbardella affronta Bucchi, Selvapiana protesta ma non ci sono irregolarità. Campobasso vicino al gol, c'è prima questa punizione al 32esimo di Fiore bloccata da Diuff, poi a seguire al 33esimo il tiro al volo di Alessandro e ribattuto da Vitale. Lupi ancora rembanti, un minuto deve trascorrere per la girata di Bucchi parata incredibilmente da Diuff. Gioco interrotto poi per un fallo ravvisato proprio sul portiere da parte di Censori, dubbia, irregolarità. Cappellacci cambia sovente la posizione di Fiore, partito a destra, passato a sinistra poi accentrato come mezzala. Alla sfuriata rosso-blu corrisponde però il raddoppio Teatino. Al 38esimo i lupi sono scoperti a destra, Varone ha la possibilità di incunearsi e mettere al centro. L'appoggio poi di Dossanto, se è comodo, ha due passi dalla rete. Chieti vantaggio di due gol a Selvapiana proprio come la gara dell'anno scorso. Il Chieti mostra una certa solidità, il Campopasso vive a sprazzi la gara come a fine primo tempo. Quando Alessandro mette al centro, Fiore manca nella deviazione importante sotto rete. I lupi prestano prateria al Chieti, così Fiore al 48esimo scocca un tiro respinto da Diuff sul quale si fionda Rao. Ancora una respinta per il giocatore rosso-blu. Tornando negli spogliatoi, i Teatini assediano l'arbitro che non ha fermato il gioco in pieno recupero in occasione dell'infortunio di Bustamante, l'allenatore Teatino Ronci viene allontanato nel corso del ritorno negli spogliatoi. Il Chieti chiude i giochi al quarto della ripresa, quando Varone appoggia per il Trissa a firma di Dossantos. Il gol è uguale al raddoppio, ma i centrali difensivi Fusaro e Di Pasquale sono imbarazzanti. L'umiliazione per il Campopasso è servita al sesto, quando Dossantos toglie palla a Di Pasquale, che rimane a terra. Per lui, ampia libertà fino al tiro respinto da Capuano. Riprende Varone, che trova ancora un'area in spinta prima del poker calato da Ricucci, che corre poi fino alla curva sud e ha da fare una dedica verso l'alto, mentre Cappellacci si mette le mani in faccia come reazione al 4-0. La gara è chiusa, ma il lupo cerca di salvare l'onore, non contribuisce troppo alla causa questo tiro di Valentini del dodicesimo. Un minuto dopo, Cappellacci opta per le quattro punte, ma non serve quasi a nulla in campo di Massettodino per Censori e Fiore. Al sedicesimo potrebbe essere 5-0 per gli ospiti, se non fosse per il fuorigioco di Dossantos. Su assist di Varone, pocherissimo, non convalidato. Al venticinquesimo il diagonale di Todino si spegne sul fondo, qualche secondo prima che Selvapiana, bel gesto. Applauda in toto il centravanti Teatino Dossantos, autore di una bellissima tripletta. In suo luogo entra esposito. Al trentunesimo finisce a lato il diagonale di Ricucci. Un minuto dopo, palla frontale per Dimas che chiude a lato. Ancora occasione per il rosso-blu al trentaquattresimo con la girata in area di Bucchi che bacia il palo. Prima di finire sul fondo, i lampi di marca rosso-blu sono frutto di episodi sporadici ed isolati, più che di una manovra organizzata inesistente per i locali. Al trentanovesimo fuori Alessandro in campo Cianci. Non succede poi nulla fino alla fine quando al termine dei quattro minuti di recupero i tifosi respingono. Il classico abbraccio virtuale con la squadra, tutto questo mentre Cappelacci rimane immobile in panchina per qualche minuto prima di riguadagnare poi mestamente gli spogliatoi. Un gruppo nutrito di tifosi rosso-blu aspetta il tecnico a fine partita per contestare, più che per chiedere l'umi della sconfitta rovinosa. Ma come dare loro torto dopo un tale sfacelo?